Buongiorno a tutti, mi chiamo Cassandra, mi sono 22 anni e mi sono più grande. Sì, sono questo? Ma guarda in satt! Gli italiani, che sono più... Ciao, ciao! 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 Grande la méde! È vero, è vero? Eh, è vero, sono così.... Ah, vero? La roma Ma soprattutto, cosa anche qua? La febba alleürü! Questa sera, molto divertita' o no? Ah nein! A te hai una maybe sposa ma c'è un messaggio! A papà puntano signor! L'8 novembre a Firenze ci sarà un evento dove ci sarò io e altri grandi artisti a Firenze per sostenere un bambino, Fabio, che ha solamente 12 anni ed è molto malato e deve esibire un'ossigeno terapia. Quindi io sono venuta a Quiffi e a Zulino per cantare per voi e quindi sarei contenta se alcuni di voi, visto che anche un sabato l'8 novembre, venissero a trovarci a Firenze e aiutare questo bambino. Bene, altro qua. Comunque un applauso di Cassandra, andate sul suo cuore ovviamente con Cassandra.verosa.forum3.20, quindi è abbastanza facile. Bene!